Quella di ieri è stata una festa dei lavoratori amara per il territorio di Capitanate e soprattutto per gli operai della ex Tozzi di Foggia e per quelli della Dopla di Manfredonia. Da oggi sono a casa senza più lavoro i 13 lavoratori in somministrazione presso la GEV di Foggia, ovvero la ex Tozzi. Quello che era un timore purtroppo in questa lunga avvertenza è diventata una triste realtà. Ci sono le prime vittime sacrificali, dicono i sindacati, in un'avvertenza che ha investito allo stabilimento GEV di Foggia dopo la decisione unilaterale contestata dai sindacati di dismettere il sito industriale che produce quadri elettrici e avviare le procedure di licenziamento collettivo. I 13 lavoratori in somministrazione dell'agenzia Open Job Metis hanno avuto la comunicazione che il loro contratto non sarebbe stato rinnovato e dunque da oggi sono a casa senza più un lavoro. Mentre sono aperti i tavoli di confronto in regione e ora anche al Ministero dello Sviluppo sul futuro dello stabilimento, ha commentato Giovanni Tarantella, segretario del CGL di Foggia, sentito dalla nostra redazione, dice che le scelte della multinazionale americana investono in modo drammatico i lavoratori che erano parte integrante della produzione del sito. Lavoratori che vivevano nell'attesa di una stabilizzazione che oggi invece si ritrovano in pochi mesi senza un reddito e senza un lavoro. L'ennesimo schiaffo ad una provincia che presenta uno scenario occupazionale a tinte fosche, dove alla scarsità di occasioni di impiego ci sono le poche possibilità e sono precarie. Dall'altra parte della Capitanata, a pochi chilometri da Foggia, si registra ancora l'ansia e la disperazione dei lavoratori della Dopla. All'indomani di quella che doveva essere la giornata che celebra il lavoro per la sua eccellenza, invece si registra una situazione di profonda disperazione. Oltre 60 operai che rischiano di restare senza un lavoro a causa della difficoltà per l'azienda che opera nel territorio sipontino e per la quale al momento non ci sarebbero prospettive future né di rilancio aziendale né di riassorbimento occupazionale, lanciando così nello sconforto decine di famiglie.